Far shopping e trovarsi al centro di un flash mob da record è accaduto ieri al centro commerciale Il Grifone. Lo squillo di tromba, il segnale stabilito per dare il via a un evento inatteso che ieri pomeriggio ha animato il centro commerciale Il Grifone di Bassano. Tra le facce sorprese di quanti avevano scelto il shopping center cittadino per trascorrere la loro domenica pomeriggio, ecco improvviso inatteso flash mob. Il flash mob è un evento a sorpresa dove delle persone, un gruppo si organizza per creare qualcosa all'interno di un edificio o di una piazza. Questo effetto sorpresa in questo caso era una coreografia realizzata dal Sweet Devil su un nostro brano che si chiama Shout. Il flash mob è una cosa che accade all'improvviso, quindi un flash in movimento. In questo caso una coreografia montata sulla musica di Shout. Per 100 minuti oltre 350 ballerini hanno letteralmente invaso ogni spazio del centro commerciale. Tre volte sorpresi e divertiti dei presenti. Ma perché è stato scelto proprio il Grifone? Il Grifone è la nuova piazza di Bassano, quindi ci sembrava il posto migliore per fare una cosa così in grande. Perché il centro commerciale durante l'inverno è un luogo caldo, un tenitore di molte persone, a livello architettonico era molto bello ed era ovviamente disponibile. Ringraziamo anche l'organizzazione del Grifone che ci ha dato un grande aiuto. ! Ringraziamo! 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 Grazie a tutti.